Voi la vedete alla televisione? Vedetelo. Il mondo è confuso, l'Italia è confusa, la Sicilia è confusa, tutto confuso. Prendete questa base militare di Comiso, serve agli americani, serve alla Sicilia e serve pure a noi altri, che abbiamo i terreni vicini all'aeroporto. Ma ci sta un comunista che non la vuole. Si chiama Pio Latorre. Questo vuole solo che lo Stato ci scassi una minchia. E Piccio parla, parla, parla. La democrazia è chiesto, amici miei. Gli altri che ci fanno perdere tempo. E Piccio. Voi lo sapete, pure Cosa Nostra stava diventando una democrazia. Perciò mi sono detto, totò, che ha bisogno di gestire questa situazione. Perché c'è t'affari complicate, non si può non risolvere la democrazia. Se bisogna pigliare una decisione, ci va a essere uno capace di pigliare per tutti. È vero, Pizzo? Eh? La vostra coeserta ti piaceva. La caponata è stata di tuo gradimento. La Puzzo voi la conoscete. Capodicina della Renella. Bravo picciotto, grande e faticatore. Solo che ogni tanto ha questo malo vizio di fare chiacchi. Scusate, ho posto, era stato promesso a me. Ho state sentendo? Lui dice, però. Lui dice, era stato promesso a me. Ma Mischio non lo fa per male. Lo fa per una cattiva abitudine del passato. Oh, che è questa faccia? Vedi che io ti voglio bene, devi stare tranquillo. Devi solo cambiare abitudine. Tutti quanti hanno a cambiare abitudine. Voi lo sapevi, io sono disposto a venire incontro a tutte le vostre necessità. Ma a tempo di cacchiere, finì. E chi non lo vuole capire, diventa più nemico. E allora muore.